Dobbiamo tracciare dai primi dell'Ottocento la nascita del tempo libero. Se volessimo tracciare un primissimo esempio delle vacanze, se vogliamo, naturalmente partiamo sempre dall'upper class, dagli strati superiori della società del tempo, quindi nobiltà, alta borghesia, nel caso di Trieste, chiaramente la classe mercantile. Abbiamo il fenomeno delle ville suburbane. Qual è la prima villa a cui si pensa quando si pensa a una villa nei dintorni di Trieste, nella campagna, è chiaramente la Villa Revoltella. In un certo senso il Barone tracciò la strada, tracciò l'esempio, e quello in un certo senso viene considerato solitamente il parco del Barone, il luogo di villeggiatura, ma a tutti gli effetti il Barone vi andava in vacanza, andava nella Villa Revoltella nel periodo estivo. Non a caso poi diventerà anche la sede nel periodo estivo del podestà del sindaco, fino agli anni 50, del 900 circa. Prima di allora in realtà quelle che oggigiorno consideriamo ville inserite nel tessuto urbano, all'epoca invece erano ville suburbane, erano ville presenti ancora nella campagna, perché erano zone non ancora urbanizzate. Quindi Villa Necker, Villa Economo, dove morì il consul inglese Sir Richard Barton, chiaramente le ville di matrice inglese sul Colle di San Vito, che all'epoca era una zona florida, lussureggiante, non era ancora stata colonizzata, tra virgolette, era ancora zona di campagna, pur essendo a un passo dal centro. Anche qui dove ci troviamo noi. Esattamente, proprio in questa zona ad esempio vi era la Bora Hall, che era una villa inglese, dove vi soggiornò anche l'ammiraglio Nelson. Grazie a tutti.